E' stata data alle fiamme nella notte tra sabato e domenica l'auto di Gianluca Calì, uno dei 36 imprenditori che a Bagherì avevano denunciato i propri estortori, portando lo scorso 2 novembre all'arresto di 22 persone. Si trattava di una fitta rete di racket che operava in alcuni casi fin dai tempi della lira e che non risparmiava nessun settore, dalle edilizie ai centri scommesse, dalle prescherie all'abbigliamento. Calì non è nuovo a questo tipo di eventi, ad aprile erano state rubate due auto dalla sua concessionaria, trovate poi bruciate nel Nisseno. L'imprenditore, già noto per altre denunce al Pizio, era stato di recente protagonista di uno degli ultimi servizi di Giulio Golia nel programma televisivo d'Italia 1, Le Iene. Il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, nonché componente della commissione antimafia già russo, ha annunciato che solleciterà la prefettura di Palermo ad adottare strumenti adeguati alla protezione di Calì, sottolineando che in passato la situazione era stata sottovalutata dato che non era stata fornita all'imprenditore alcuna protezione dopo le diverse denunce.